Ciao a tutti qua da Langloid Minecraft, siamo insieme a Hitch, Quince e il mio fratello che lo conoscete già, il cast delle Iene dei 18 anni di Juicy che ha la vostra estrema, l'estrema, questa non a destra o a sinistra nel video, non lo saprò. Siamo qui per fare questo video a Nerds Cake, per ringraziarlo in un certo modo dei suoi video che ci farò divertire, oggi faremo il Raffaello. It's good for you, bitches. Fagliere di cocco! Mandole! Cioccolata! Mmm, scuffio! Warfare! Pilottini! Pilottini! And the Mayonnaise! Apri le Waffer! Ciseta! Che strappa! Fagliare di profitability! Stracca! Scaglare di aggiungere i suoi Cis problema. Tod Sweeney style! Di sciogliere la cioccolata! A bagnomaria! Te zappiamo ma non ti squaglia! Come cazzo si accende? E così fu il fuoco! E mentre aspettiamo facciamo uno snack! F**k! F**k b**ch! E' nuova! F**k b**ch! F**k b**ch! Power time! Primo stato di cocco! F**k b**ch! Vai con la cioccolata! Mandorla! Mandorla! Pubblicità occulta! It's not good for you! F**k b**ch! F**k b**ch! Delicatezza della signora! F**k b**ch! Il ballo del pilottino! F**k b**ch! F**k b**ch! Altro strato di cocco! F**k b**ch! F**k b**ch! F**k! La cena è servita P***z! Blake! Sì, via! Mamma, adesso! Mmm! Specialità, bro! Io un poco! C'è un po' un'altra! Un'altra cosa? No! Ah, saluta! It's good for you guys! It's good for me!